Buonasera e bentrovati in una nuova puntata di In Cammino con un tema particolare che riguarda tutti voi che ci state ascoltando ma che riguarda tutti, riguarda la società che stiamo vivendo in questa epoca della nostra storia. Parliamo di digitale, parliamo di apostolato e digitale, quindi chiesa, nuovi modi di annunciare anche attraverso il vivere quell'ambiente che può essere il web e ancora prima appunto l'apostolato digitale. Lo vediamo dopo la sigla. E c'è una chiesa, una diocesi in Italia che ha istituito proprio il servizio per l'apostolato digitale che è dentro l'ufficio per la pastorale universitaria. Siamo nell'arcidiocesi di Torino e c'è il coordinatore qui con noi, Don Luca Peiron, bentornato a TV2000, Don Luca. Grazie e buonasera a tutti. E collegato da Torino c'è anche un'altra persona che collabora con Don Luca in questa missione, quella dell'apostolato digitale, bentrovato a Ivan Andreis. Bentrovato Ivan. Grazie, buonasera. Allora, Don Luca, spieghiamo a chi ci segue senza spaventare nessuno, continuate a seguirci, è un tema particolare ma ve l'ho già detto in apertura, che riguarda veramente tutti, il nostro presente ma certamente il nostro futuro, riguarda anche la chiesa, le nostre parrocchie, le nostre comunità. Che cosa significa apostolato digitale? Apostolato digitale significa semplicemente apostolato, cioè annunciare il Vangelo, stare nel Vangelo e con il Vangelo nel tempo in cui viviamo. Il tempo in cui viviamo è un tempo assorbito dalla tecnologia e che assorbe tecnologia, soprattutto tecnologia digitale. Di fare apostolato digitale significa fondamentalmente provare a capire insieme che cosa significa annunciare il Vangelo in un tempo in cui il digitale ha uno spazio così grande e che cosa significa dialogare col mondo rispetto a questo tema portando quello che la chiesa ha e quello che la chiesa è. Allora, non stiamo parlando in questo momento di come si utilizza un cellulare, di come si utilizza un particolare social network, perché stiamo proprio a monte di tutto questo, un po' una colonna che ci istituisce, che ci educa, che ci fa stare in un mondo particolare di cui spesso abbiamo paura, perché se si utilizza in un modo arriva un buon risultato, se magari si utilizza in un altro si va verso mondi che è meglio non abitare. Sì, ma non solo. Direi che c'è una parte di tutto questo che utilizziamo e c'è una parte di tutto questo che utilizziamo senza renderci conto che la utilizziamo. Facciamo degli esempi. E c'è una parte di tutto questo che ci utilizza. Ma molto banalmente il treno che mi ha portato qui è un treno che usa dei sistemi di intelligenza artificiale. Il fatto che in questo momento noi ci stiamo guardando è perché c'è un sistema di intelligenza artificiale e di intelligenza artificiale che regola le trasmissioni. L'intelligenza artificiale nel sistema bancario, l'intelligenza artificiale in qualche modo governa buona parte della produzione industriale. Quindi l'intelligenza artificiale è tante cose. Alcune sotto il nostro diretto controllo, come può essere l'intelligenza artificiale dentro un telefono, altre che controlla buona parte della nostra vita. Questo non deve farci paura, però ci deve far dire che questa roba qui ha a che fare col nostro giorno per giorno, non solo col giorno per giorno di un ingegnere informatico. E quindi Ivan Andreis, se ha a che fare con la vita, ha a che fare chiaramente con l'uomo e quindi con la Chiesa, e di lì anche l'idea, credo, confermamelo oppure spiegacelo, è di istituire un servizio per l'apostolato digitale in una chiesa, in questo caso nell'Arcidioce di Torino. Come nasce questa preoccupazione, questa attenzione? Sì, esattamente così. Quattro anni fa ci siamo posti una domanda, cioè come continuare l'opera di Cristo nel mondo di oggi. E per farlo è necessario leggere i segni dei tempi e interpretarli alla luce del bargello. Nel mondo di oggi, come diceva prima Don Luca, tutto quasi è digitalizzato. Potenti algoritmi ci informano, fanno previsioni, interpretano i nostri gusti, senza però darci la possibilità di capire fino in fondo come funzionano, e senza informarci sui rischi che corriamo e sui costi anche che questi comportano in termini di giustizia, di ambiente, di libertà. Tra l'altro, proprio lo scorso anno, con alcuni nuovi sviluppi dell'intelligenza artificiale, ci siamo posti anche nuove domande rispetto a quattro anni fa. E vorremmo ripararci come Chiesa dai rischi di affidarci a una sorta di nuovo vitello d'oro, ecco, dotato di intelligenza, ma non di sapienza, capace di fare previsioni, ma non profezie. Stiamo vedendo anche il sito apostolatodigitale.it, che racconta chi siete, cosa fate e soprattutto perché, mi viene da dire Don Luca. Ma tecnicamente, molto concretamente, un servizio come questo, poi come entra nella vita delle singole comunità, delle parrocchie? C'è un modo di entrare ad intra e uno ad extra, nel senso, quello ad intra è un servizio, quindi è il servizio di chi fa pastorale, che sia un ufficio di curia, che sia una parrocchia, un'associazione, un movimento o un elemento ecclesiale di qualunque natura. Quindi nell'accompagnare quello che normalmente si fa, quello che si è sempre fatto, per continuare a farlo nel modo migliore possibile in questo tempo, in questo frangente. Quindi significa, per esempio, accompagnare le comunità a comprendere quali nuove povertà il digitale genera o quali nuove opportunità il digitale genera, per esempio, sul livello educativo, sul livello formativo. Ad extra significa portare nel dialogo con il mondo il portato della Chiesa, quindi la dottrina sociale della Chiesa, e mettere parola su questi temi orientando chi costruisce tutto questo verso il bene comune, affinché questo sia per il bene comune. Direi, in un quadro più generico, portare cultura e cultura che sia impregnata di Vangelo in modo tale che chiunque sappia di che cosa stiamo parlando e possa, anche lui, anche lei, mettere parola su questi temi e creare un'opinione pubblica che possa indirizzare il futuro verso l'orizzonte che desideriamo. Ivan, a questo punto credo che sia fondamentale la formazione su questo tipo di campo, lo sviluppo che può portare veramente alla nostra vita quotidiana e pensando anche agli ambienti ecclesiali, alle diocesi, il vostro si chiama servizio, perché probabilmente è trasversale a tutti gli ambiti pastorali, avere coscienza di quello che si sta maneggiando quotidianamente, è già un passo avanti. Sì, certo, noi abbiamo iniziato proprio attraverso la divulgazione con una rubrica settimanale sul giornale Diocesano, proprio quattro anni fa, poco dopo essere stati istituiti, appunto come servizio. La formazione, da un lato, la comunicazione dall'altro, ma anche l'educazione, se penso alle sperimentazioni che abbiamo fatto, perché forse oggi non ci si rende più conto, ma quattro anni fa mettere parola su questi temi era qualche cosa di più difficile di oggi. Abbiamo vissuto una pandemia, anche le parole del Papa, penso alla giornata mondiale della pace, tocca il tema dell'intelligenza artificiale. Tutti oggi ne parlano dopo il chat GPT, ma all'epoca era qualche cosa effettivamente nella Chiesa, nei nostri contesti, qualche cosa di nuovo, che abbiamo un po' provato ad inventare anche in termini appunto di attività educative. Penso alle attività con i ragazzi, con le famiglie, attraverso i giochi, con i dispositivi digitali. Abbiamo esplorato i rischi che l'intelligenza artificiale pone e anche naturalmente le opportunità. Ho citato chat GPT perché effettivamente ci pone un interrogativo, ossia come rinnovare anche le riflessioni, le proposte, anche in termini formativi di questo servizio, perché siamo costantemente obbligati a riformularle. Don Luca, per quanto riguarda il pensare, l'essere su questi temi, l'approfondire, il ragionare, dal tuo punto di vista la Chiesa, la Chiesa italiana, a che punto sta? Noi abbiamo fatto due grossi errori nel passato. Il primo grosso errore fu quando fu inventata la macchina stampa con Gutenberg e non capimmo che quella era una rivoluzione e questo ha generato la riforma protestante e la controriforma. Il secondo grosso errore lo facemmo con la rivoluzione industriale, lasciando di fatto alla riflessione di Marx quello che stava succedendo. La dottrina sociale della Chiesa nasce come risposta più a quella risposta marxista che non a quello che stava succedendo. Oggi la Chiesa universale e anche le Chiese locali stanno invece rispondendo a quello che sta succedendo. Non è un caso, però è una prima volta forse nella storia della Chiesa in cui il Magistero interviene in un processo ancora significativamente in atto. I discorsi del Papa, ma non solo, il di Castero per la comunicazione ha fatto un documento su che cosa significa stare nel web da cristiani. Si parla di sinodo digitale. Uno dei temi proposti dal Papa per la seconda parte del sinodo, il terzo tema in ordine, è proprio il continente digitale, proprio l'annuncio del Vangelo digitale. Ora, che la Chiesa stia così tanto, in maniera così significativa, su un processo che è in corso d'opera, è un altro segno dei tempi da un certo punto di vista. Quindi vuol dire che stiamo mettendo sulla stessa... diciamo che il cambiamento che ci sta portando l'intelligenza artificiale è pari ai cambiamenti d'epoca che ci hai descritto prima, la stampa, l'industrializzazione. Sicuramente sì. Si tratta di una tecnologia totalmente trasformativa, una tecnologia che non è verticale perché fa una determinata cosa, ma è una tecnologia generale che cambia il modo di fare tutte le cose, cambia il modo con cui noi ci rapportiamo, cambia il modo con cui si costruisce l'identità e si percepisce l'identità, cambia il modo con cui possiamo credere, sperare e amare. Una rivoluzione che va abitata e va orientata e tu lo stai facendo anche nei locali della tua parrocchia, Madonna di Pompei, a Torino. Dopo la pubblicità entreremo proprio nei locali e vedremo anche i server che sono stati installati in parrocchia e poi anche daremo uno sguardo verso il cielo perché sempre da quella parrocchia, magari dall'ultimo piano, si possono guardare ed ammirare le stelle. Dopo la pubblicità. Bentornati, stiamo parlando di Apostolato Digitale, questo servizio che ha istituito la Chiesa di Torino, lo stiamo facendo con Don Luca Peirone e con Ivan Andreis. Abbiamo capito che cos'è l'Apostolato Digitale, è al servizio di chi e che direzione sta prendendo, però dalle definizioni al concreto si passa per la parrocchia di Don Luca. Chiaramente è una parrocchia, diciamo così, all'avanguardia perché vedremo in questo servizio appunto che cosa è stato installato in quei locali, che tipo di giovani passano in quella parrocchia e poi se si sale le scale e si arriva sul tetto si ha la possibilità anche di ammirare le stelle con uno sguardo diverso. Vediamo. Questo per esempio è un server che si trova qui in parrocchia. Io sono uno studente di fisica e faccio parte di un'associazione laica che si occupa di portare avanti i progetti di machine learning e di intelligenza artificiale dal punto di vista scientifico. Avevamo bisogno di spazi durante il periodo del Covid e appunto Don Luca ci ha concesso questi spazi. Noi abbiamo organizzato delle conferenze trasmesse in streaming, abbiamo ricevuto delle domande da scuole provenienti da tutta l'Italia ed è stato un modo per riscoprirsi comunità. I telescopi sono stati installati sul tetto della parrocchia circa due anni fa. Il tutto è nato perché il Don è un grande appassionato di telescopi, di cielo stellato e poi ha iniziato a coinvolgere anche i giovani, la pastorale universitaria, gli scout. Ritengo che queste tecnologie facciano parte di quello che potremmo definire un apostolate digitale perché se l'apostolate portare un messaggio, la possibilità di portarlo grazie alle tecnologie c'è. Quando capitava di raccontare il fatto che ci trovavamo per portare avanti dei progetti in ambito di machine learning, di intelligenza artificiale presso dei locali di una parrocchia, la gente sicuramente poteva appunto rimanere stupita. Però credo che sia comunque interessante il fatto che la Chiesa voglia aggiornarsi e non credo che si possa parlare con un linguaggio adeguato e compreso alla contemporaneità nel 2024 senza confrontarsi col digitale. Mi aspettavo di avere più difficoltà nel coinvolgere i giovani in organizzare un progetto di questo tipo e in realtà mi sono reso conto che una volta che vengono lanciati degli input i giovani sono molto reattivi per cui se ci si incammina poi si riesce a non camminare da sole. I telescopi sono uno strumento valido per far sì che la fede possa aumentare nei giovani, possa suscitare più che altro curiosità perché sono uno strumento autentico che ti rende cosciente e consapevole di quanto si è immensa la bellezza del creato e ti fa scoprire e riscoprire quanto in realtà c'è bellezza intorno a noi ma soprattutto sopra di noi. Tante attività di questa parrocchia in uscita che utilizza tutti i mezzi che il presente ci può dare, ci permette appunto di arrivare agli altri. Io dico anche tra le tante cose che fa Don Luca, cito solo che è consigliere scientifico dello Human Technology Lab dell'Università Cattolica quindi ne parla perché conosce ed ha studiato per questo e in tutta Italia e non solo porta avanti anche questo tipo di apostolato ma qui come si collega la stanza con il servere, il gruppo Carlo Acutis tra l'altro la parrocchia Lone Pompei è in contatto con tantissimi grandi centri studi e università in tutto il mondo e poi il cielo, le stelle. Perché la tecnologia deve servire a renderci più umani. La tecnologia è uno strumento che ci è stato dato direi dalla provvidenza perché l'essere umano è tecnologico per scoprire l'essere umano se stesso scoprire quello che lo circonda. Allora il telescopio è uno strumento molto semplice, altamente tecnologico per farci scoprire che c'è un creatore che ci ama, che c'è una paternità che ci consegna una bellezza e attraverso l'esperienza del telescopio che è tecnologia avanzata, l'esperienza di fare comunione e comunità attorno a questa bellezza. E poi c'è anche un libro che hai scritto Cieli sereni, trovare Cristo seguendo le stelle collusione del telescopio, edito dalla San Paolo che ci racconta un po' quello che avevano fatto magari inconsciamente i magi. Ci racconta che cercare bellezza fa trovare colui che è bello ci racconta che buttare nel nero del cielo, il nero che certe volte ci abita ci restituisce una luce e quella luce può significare risurrezione. Ivan Andres, condividere codici di salvezza è il motto che guida l'attività del servizio per l'apostolato digitale, codici di salvezza perché poi il lavoro, lo studio, il ragionamento, quello che esce fuori da questo vostro essere in questo ambiente che parte dalla Chiesa ma va al mondo, poi aiuta anche chi è più sfortunato, parlo anche di gesti concreti che riguardano anche le opere di carità, è così? Sì, è così. L'idea di unire la vita della fede di una parrocchia e le tecnologie hanno proprio questo obiettivo, cioè di tenere insieme persone differenti, differenti per età, differenti per estrazione sociale e anche differenti nei loro bisogni. I codici di salvezza sono anche codici di fraternità che ci consentono di avvicinare chi per esempio le tecnologie non le sa utilizzare o non ha i mezzi per utilizzarle ma anche far incontrare chi le conosce ma non ha abitato un mondo analogico per esempio e chi invece le conosce poco e invece ha necessità di utilizzarle, penso agli anziani o altre categorie più fragili. Tutto questo dove? All'interno di una parrocchia. Ora, quella che abbiamo visto è sicuramente la parrocchia più sperimentale che io abbia conosciuto ma il nostro desiderio come servizio di Ocesano, che in parte abbiamo già iniziato a realizzare in questi anni e di portare non tanto un modello di parrocchia tecnologizzata ma uno stile di vita all'interno della parrocchia che non tiene fuori la tecnologia e soprattutto che favorisce il dialogo tra fede e scienza. Perché poi gli studenti, ma non soltanto i più giovani, anche i meno giovani, fuori dalla parrocchia incontrano la tecnologia, la usano e all'interno perché non dovrebbero poter continuare ad utilizzarla anche in maniera critica, in maniera più consapevole soprattutto del fatto che si tratta di uno strumento che può concorrere al bene comune e allo sviluppo integrale della persona ma anche purtroppo ai loro opposti. Una battuta finale Don Luca e gli altri parrocchiani come hanno visto il crearsi di questa iniziativa? Immagino chi viene quotidianamente alla messa e si vede arrivare studenti di grandi università a parte che è un modo per incontrare giovani che mai si potrebbero magari incontrare però lì c'è una vita e tutta la parrocchia e tutta la chiesa. La domanda me la fanno, mi chiedono ma questi giovani che sono da lunedì al venerdì perché domenica mattina non sono a messa? Io non so se a messa vado da qualche altra parte o non ci vadano proprio però io credo che in questo tempo sia questa una delle missioni che la chiesa deve fare generare e seminare senza preoccuparsi troppo di dove, se e quando il seme crescerà. Ci è dato di custodire un amore, di consegnare un amore non di verificare quanto, come e se quell'amore è entrato nel cuore di qualcuno. Grazie Don Luca Pairon, grazie Ivan Andreis per il vostro impegno quotidiano per la vostra missione digitale, per il vostro apostolato e grazie anche all'Arcidiocesi di Torino che ha creduto e sta credendo in questa nuova strada per annunciare il Vangelo. Alla prossima e buon cammino. Grazie, cieli sereni. Cieli sereni sempre, grazie per essere stati con noi. Domani non ci vedremo perché domani è San Giuseppe, festa dei papà auguri per domani a tutti i papà in ascolto. Ci sarà la celebrazione eucaristica più lunga proprio per San Giuseppe e noi torniamo dopo domani e se vi siete persi la puntata di stasera la nostra App Play 2000 per scaricare tutti i contenuti che vanno in onda su TV 2000. A presto e buona serata.